Dopo il nuovo cedimento dei giorni scorsi di una parte del tetto il teatro Astra torna in consiglio comunale dove a fare acqua non è il buco sullo storico edificio di Viale dei Martiri ma bensì la gestione dell'amministrazione di Elena Pavan. Pensieri e parole dell'opposizione cittadina che l'altra sera ha batto vita un acceso scontro con la sindaca, una polemica senza tempo perché sul tavolo del confronto finiscono le dichiarazioni di Elena Pavan fatte all'inizio del suo mandato, finisce l'estenuante incertezza presente e finisce soprattutto una nuova idea per il futuro del teatro. Abbiamo scoperto una sindaca invece che si è scagliata contro i privati scandalizzata da una situazione di stallo. Ecco è anni che c'è questa situazione, è anni che la denunciamo, è anni che i cittadini la denunciano per cui noi alla sindaca chiediamo di fare qualcosa. E questo qualcosa secondo l'ex sindaco di Bassano Riccardo Poleto potrebbe essere tentare la via dell'esproprio. La invitiamo a muoversi nella direzione dell'esproprio, a perlustrare quella strada cercando alleanze per quella strada, sovintendenza, ministero, anche altri comuni, in modo da fare squadra e spingere verso un'acquisizione che potrebbe essere anche forzosa da parte del comune. Insomma bisognerebbe fare gioco di squadra, proprio quello che a detta di molti è uno dei talloni d'Achille della gestione Pavan. Ma sull'astra e sulla sua importanza Poleto rincara la dose mettendo Bassano a confronto con le altre realtà della zona. Purtroppo la comparazione tra Bassano e i comuni con termini anche di entità molto minore è una comparazione che ci vede penalizzati. Il riferimento in questo caso è legato ai fondi PNRR, ai bandi e alla capacità di intercettare risorse. Bassano da questo punto di vista è rimasto molto molto indietro. Non parlo solo di grandi opere, parlo anche di progettualità minori, parlo anche di progettualità in altri campi che non sono soltanto quelli dell'opera pubblica.